Si è conclusa da pochi giorni la mostra La mostra è stata apprezzata moltissimo e sono stati in tanti i visitatori Le opere erano esposte nelle sale della Fondazione Banca del Monte a Lucca in piazza San Martino Parlare di Tofanelli pittore non occorre essere dei critici o dei profondi conoscitori dell'arte Tofanelli ha delle idee, tecnica e capacità Doti che ultimamente sembra non essere necessari per fare pittura Ma non è il caso di Alessandro Tofanelli Per leggere le sue opere basta un attimo E si resta incantati dai dettagli, dai colori ma anche dalle ambientazioni Tanto care al pittore Il suo guardarsi intorno diventa fondamentale quando si hanno idee e tecnica Ma anche conoscenza della fotografia Le sue opere sono anche ricche Graficamente ogni soggetto ha il punto giusto E probabilmente Tofanelli si diverte a farci vedere A farci osservare quello che lui desidera Segno di una padronanza assoluta del pennello e della tela Lo ribadisco Alessandro Tofanelli è semplicemente bravo Ascoltiamolo soddisfatto di aver partecipato a questa sua personale a Lucca Sì, è stata un'occasione importante perché dopo tanti anni sono tornato a Lucca Io ho cominciato facendo gli studi quindi con l'istituto d'arte qui di Lucca Poi ho lavorato per diversi anni con una galleria importante sempre qui di Lucca Che era la Blue Chips di Omero Viagioni E lì praticamente è cominciata la mia storia, la mia carriera Omero Viagioni, attraverso Omero Viagioni Ho conosciuto un grande, grandissimo critico che era Piercarlo Santini Quindi insomma devo dire che il legame con Lucca è fortissimo Poi come succede sempre uno poi va in giro Comincia a girare il mondo E dopo un po' di tempo mi sono ritrovato qui e l'ho fatto con un gran piacere E da Lucca a Viareggio il tratto è breve E a breve appunto avremo modo di parlare di Tofanelli anche in veste di regista Sì, il prossimo mese presenterò in anteprima l'ultimo lavoro, l'ultimo film girato quasi interamente a San Rossore E al Festival Europa Cinema di Viareggio E' un piacere perché dopo qualche anno torno a Europa Cinema Già in precedenza ho presentato l'altro mio film Contro Natura E gli avevo preso anche il premio speciale della Giulia Che tra l'altro mi portò bene perché poi il film venne portato in giro per il mondo In America e un po' per tutta Europa Europa Cinema è una manifestazione che tiene duro In questi periodi in cui si parla di sempre maggiori difficoltà per le manifestazioni Soprattutto Viareggio in questi ultimi giorni Sì, Viareggio sta attraversando un momento nero Diciamo la verità E' triste vedere una città così viva Che nel corso di tempo abbastanza relativo Si è ritrovata veramente a rischiare di perdere i suoi gioielli Sì, Festival Gave, Premio Viareggio Festival Pucciniano che è comunque uno dei festival importanti E anche il Festival Europa Cinema è stato comunque un po' a rischio C'è anche il Carnevale che non viaggia proprio Io credo che ora sia veramente il momento di cominciare a ripensare un po' tutti questi aspetti Perché credo che Viareggio abbia le potenzialità per poter ritornare alla grande In quello che poi sono gli aspetti che la caratterizzano Cioè la cultura Questa cultura che ci serve E serve credo a tutti per poter progredire